Tutte mescolate, giusto? Sei d'accordo su tutte mescolate? Non puoi sapere la situazione del mazzo, giusto? Però c'è una cosa che tu devi sapere Che tu sei un po' meglio Non si crede Allora, io stendo le carte così, giusto? Pensiamo al jack di quadri E mi stop Questa? Ho detto al jack di quadri, giusto? Ho i grande Grande